Questo futuro devono essere consapevoli che non può essere senza l'Europa. Era questa la convinzione profonda di Davide, una convinzione che si è portata avanti fin da quando era ragazzo e che poi è diventato un impegno politico, un impegno politico che purtroppo ha lasciato troppo presto. E' Piero Badaloni, giornalista e scrittore ad Arezzo a ricordare ad una platea di studenti la figura di Davide Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento europeo recentemente scomparso. L'incontro è stato ospitato dall'Istituto Fossombroni Buonarroti di Arezzo, organizzato dal Circolo verso l'Europa, in una data, il 9 di maggio, in cui ricorre la giornata dell'Europa. I ragazzi hanno potuto ascoltare un intervento di Davide Sassoli che risale al 2017, quando proprio ad Arezzo si celebrano nei 60 anni dell'undicesimo congresso della NEI, che si svolse nella nostra città nell'aprile di quell'anno, all'indomani della firma dei Trattati di Roma. Quella era l'occasione per il ricordo di un congresso fatto 60 anni fa, qui ad Arezzo, sempre sulla politica estera, ma siccome era un intervento che avendolo rivisto in occasione, appunto recuperando un po' di materiale della sua scomparsa, ci è sembrato comunque di attualità e quindi in qualche modo anche un po' preveggente rispetto appunto a sei anni fa. Non era ancora Presidente del Parlamento europeo, però parla di alcune cose di sviluppi a est, di scenari, insomma di temi che purtroppo sono di triste attualità. E quindi abbiamo ritenuto importante rivederlo assieme a lui, insomma. Il messaggio allora di Davide Sassoli che voi vorreste, insomma, che questi ragazzi stamani recepissero, qual è? Ma il messaggio è certamente quello di avere il coraggio di affrontare grandi temi e di farli forte di una forte consapevolezza teorica, una forte consapevolezza politica, perché quando mancano questi presupposti l'azione politica stessa diventa sterile e non è stato invece il caso di Davide Sassoli. Bisognerebbe ampliare comunque anche i nostri orizzonti, soprattutto perché siamo giovani, e bisogna essere più aperti, uscire fuori dal nostro paese per conoscere e ampliare sempre di più il nostro bagaglio culturale. Tanto che ho deciso di partecipare al progetto Erasmus Plus quest'anno e sono contenta di aver fatto questa scelta perché penso che sia un'ottima opportunità per me, per la mia crescita personale, ma anche la carriera lavorativa. Sicuramente me lo porterò dietro, spero anzi. Il ricordo di Davide Sassoli in una giornata come questa che ricorda l'Europa è esattamente la volontà di un futuro che porti avanti sempre di più un discorso di unità, unità nel rispetto delle diversità, ma un'unità che l'Europa deve ancora purtroppo recepire e che forse paradossalmente sarà la tragedia della guerra a far rendere tutti consapevoli della necessità di questa unità.